Erika Desi, una giovane di 21 anni, uscita dal coma dopo essere stata ferita con un coltello da cucina dal suo fidanzato il 12 ottobre. L'ospedale Sant'Anna di Como ha confermato il suo risveglio. La giovane è stabile. Erika era stata trovata gravemente ferita nella sua casa a Como il giorno dell'aggressione. A ferirla, Michael Patellaro, il fidanzato di 25 anni. La giovane era stata ricoverata in condizioni critiche con ferite da coltello compresa una alla gola e un trauma alla testa. Tuttavia, fortunatamente uscita dal coma, le sue condizioni stanno migliorando. Continuano le indagini da parte delle autorità. Grazie a tutti. Grazie a tutti.